L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24, contattaci al numero in sovrimpressione. La questura di Salerno ha notificato 14 provvedimenti di DASP urbano nei confronti di altrettanti minorenni responsabili di rissa gravata, tentato omicidio e danneggiamento, verificata se a Salerno lo scorso 15 maggio. In quell'occasione, numerosi giovani si affrontarono sul lungomare di Salerno all'altezza della spiaggia di Santa Teresa, utilizzando bastoni, noccoliere e cortelli, e durante tal evento venne ferito gravemente un minorenne. Successivamente la rissa proseguì all'interno del McDonald's di via Roma, nonostante la presenza di numerosi clienti, anche quella circostanza, conferite in maniera grave un'altra adolescente. Indagini avviate e condotte alla squadra mobile di Salerno, coordinata alla Procura e alla Repubblica per il Tribunale dei Minori, consentirono di identificare i partecipanti alla rissa, i quali facevano parte di due gang diverse. Verificata la gravità dei fatti accaduti, lo scorso 21 dicembre il questore di Salerno ha emesso nei confronti degli indagati il provvedimento di divieto di accesso e stazionamento all'interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi o a locali di pubblico intrattenimento presenti nel Comune di Salerno.